signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale dopo la pausa della settimana scorsa per il video sul complanno del canale ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno mandato le loro domande questa settimana riprendiamo il nostro argomento di quest'anno cioè il war building immagino che il titolo di questo video sia una sorta di spartiacque generazionale quelli di voi nati prima degli anni 90 staranno pensando wow mitico daggerfall e quelli nati dopo non avranno idea di che cosa si parli non vi preoccupate ci arriviamo due settimane fa all'interno del discorso che stiamo facendo sul war building abbiamo parlato della sindrome di tolkien cioè la tendenza che hanno alcuni master a voler inserire troppi retroscena dietro anche gli elementi più banali dell'ambientazione fino a farla diventare così pesante che crolla sotto il suo peso questa settimana vediamo quello che può essere considerato l'errore opposto cioè quello che viene appunto definito l'effetto daggerfall cominciamo spiegando a quelli che sono nati dopo gli anni 80 e quindi non hanno vissuto in prima persona il fenomeno che cosa sia daggerfall ciao bambini le vostre mamme sanno che state guardando un video su youtube daggerfall è un videogioco uscito a metà degli anni 90 e la seconda installazione della serie di elder scroll della bethesda è più probabile che molti di voi abbiano sentito parlare di oblivion che è la quarta o di skyrim che è la quinta la caratteristica principale di daggerfall che lo distingue da tutti i titoli precedenti da tutti i titoli successivi e da tutti gli altri videogiochi tuttora in commercio è l'enorme estensione della sua mappa che copriva un'area di 160 mila chilometri con 15 mila punti di interesse se volete farvi la proporzione con un gioco contemporaneo the witcher 3 che è considerato avere una mappa enorme ha un'area di gioco calpestabile di poco più di 130 chilometri quadrati e un paio di centinaia di punti di interesse 160 mila chilometri quadrati sono grossomodo metà dell'estensione territoriale dell'italia nel mondo reale ovviamente questa moneda immateriale non poteva essere creata a mano dagli sviluppatori quindi la maggior parte della mappa è creata automaticamente dal computer tramite metodi procedurali e questo causa quello che appunto è definito l'effetto daggerfall per quanto il giocatore abbia migliaia e migliaia di chilometri quadrati da poter esplorare e migliaia e migliaia di quest da poter intraprendere essendo tutte generate dagli stessi pochi elementi base ogni punto della mappa fondamentalmente in un modo o nell'altro assomiglia a qualcosa che il giocatore abbia già visto o già fatto affrontare un dungeon a glenpoint non ha assolutamente nulla di diverso di affrontarne uno in cambria e grossomodo tutte le quest prevedono lo stesso tipo di mostri lo stesso tipo di tesori anche i png che affidano queste quest dopo un certo punto sono fondamentalmente indistinguibili l'uno dall'altro questi sono i casi in cui si dice che il gioco è largo quanto un oceano ma profondo quanto una pozzanghera con il tempo si è passati a chiamare effetto daggerfall proprio quella tendenza che hanno alcune ambientazioni a essere apparentemente enormi e pieni di elementi ma nella pratica molto prive o del tutto prive di contenuti nel war building non è così infrequente trovare master che cadono nell'effetto daggerfall cercando di evitare la sindrome di tolkien cadendo alla padella alla brace nella pratica per evitare di inserire troppi elementi che mandino in confusione ai giocatori o che gli allunghino troppo i tempi di lavorazione producono un'avventura che in realtà non ha assolutamente niente di interessante o di notevole che susciti l'interesse dei giocatori disegnare la mappa di un continente su un foglio scrivere i nomi delle dieci città di questo contenente disuagnare due catene montuose un vulcano non è aver creato un'ambientazione perché non c'è assolutamente nulla che distingua le città l'una dall'altra o nessun elemento che incuriosisca i giocatori a visitare le montagne o ad andare sul vulcano non dimenticate mai lo abbiamo detto più volte la creazione di un mondo immaginario l'esercizio del war building non è quello di creare la simulazione di una realtà immaginaria alternativa ma è quella di fornire un contesto coerente ma che come scopo abbia quello di essere la base delle avventure dei giocatori quando preparate un'ambientazione siete effettivamente all'interno di uno dei pochissimi casi in cui veramente le dimensioni non contano se nella galassia che state preparando per la vostra ambientazione dite che ci sono 100 pianeti abitati da 100 specie senziente diverse questo sembra un numero enorme ma nella pratica se queste 100 specie senziente diverse non sono effettivamente caratterizzate in 100 modi diversi e visitare uno dei 100 pianeti non sia un'esperienza di gioco diversa da andarne a esplorare uno degli altri 99 in realtà voi non avete affatto 100 pianeti diversi avete solo detto di averne 100 diversi quando i giocatori si spostano da una zona all'altra dell'ambientazione non solo la descrizione del paesaggio deve cambiare ma anche le fonti del conflitto e le situazioni di gioco in cui i loro personaggi possano trovarsi diciamo per esempio che la vostra campagna abbia come tema centrale il conflitto dell'uomo contro la natura ecco gli eroi potrebbero partire da un pianeta fortemente industrializzato che sfrutta senza pietà le risorse del pianeta stesso in cui il contrasto tra l'uomo e la natura è una netta vittoria da parte dell'uomo che la natura sta distruggendo per poi spostarsi magari su un altro pianeta dove invece i coloni sono riusciti a entrare in simbiosi con il mondo che li circonda e quindi hanno installato una colonia molto prosperosa anche se a bassissimo impatto e poi magari nel terzo atto della quest finiranno su una colonia perduta totalmente inglobata dalla giungla in cui un mondo in cui il contrasto tra l'uomo e la natura questa volta è stata una netta vittoria della natura e magari i pochi sopravvissuti che restano sono costretti a vivere in queste rovine faticenti a volte alla giungla come uomini preistorici stesso tema centrale ma tre modi diversi per affrontarlo legato a tre locazioni diverse all'interno della quest queste semplici tre locazioni hanno al loro interno molto più materiale che gli ipotetici 100 pianeti detti all'inizio su cui in realtà non c'è materiale neanche per riempirne uno questo ovviamente deve stendersi anche ai micro dettagli all'interno dell'ambiente di gioco zone diverse devono essere anche meccanicamente diverse anche solo al livello del tipo di sfide che si incontrano o tipi di mostri che sono più frequenti in quella zona anche in questo caso disegnare la mappa di un dungeon e dire ai giocatori che quel dungeon è vecchio di mille anni non lo rende di per sé interessante né lo rende differente da tutti gli altri dungeon che faranno durante quella stessa campagna la tomba del signore dei leech deve essere diversa dai cunicoli in cui abitano i koboldi che devono essere diversi dall'antica città tempio abbandonata nella giungla meccanicamente diversi devono contenere trappole diverse mostri diversi situazioni di incontro diverse e ovviamente tesori diverse ricompense diverse e esplorare il concetto di dungeon in modi diversi altrimenti voi non avete tre dungeon nella vostra campagna ne avete uno diviso in tre puntate per questo motivo se non avete i mezzi il tempo pensate che la campagna non durerà abbastanza per riempire i dettagli una grande quantità di zone di gioco ambienti di gioco diversi invece di lesinare sui dettagli vi è molto più conveniente ridurre drasticamente il numero delle zone una campagna che abbia solo un villaggio due dungeon e una montagna con un vulcano ma ognuna di queste zone è dettagliata e contiene sfide ed elementi che possano appassionare i giocatori avrà sicuramente una resa migliore e verrà ricordata meglio di una campagna con 100 pianeti 100 specie senzienti 100 dungeon ma che alla fine non sono altro che un effetto procedurale in cui voi di volta in volta inserite a caso gli stessi 4-5 mostre a ripetizione per far sembrare che avete molto più materiale di quello che effettivamente è previsto per quella quest credo che oramai basti così il concetto è chiarito interrompiamo qui il video prima che il video stesso comincia a soffrire dell'effetto daggerfall adesso sta a voi scrivetemi qua sotto nei commenti se avete domande dubbi o perplessità e soprattutto se vi siete mai imbattuti sia come giocatore che come master nell'effetto daggerfall se siete stati master come avete fatto a evitarlo o come il vostro master ha fatto a evitarlo vostri commenti tornano utili a me e anche a tutti gli altri che li leggono quindi non siate timidi per il resto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video